C'è un operatore sanitario che ha... Un operatore sanitario che semplicemente per legge è stato sospeso, non entro in merito sulla giustizia della legge, sono un operatore, non sono un giurista. Ritengo però personalmente che sia una cosa scorretta lasciare a casa una persona senza stipendio per un mese, cioè tutti prendono un minimo di sustentamento, il fatto di proprio togliere tutto io lo vedo come un ricatto. Non potendo più vivere e mantenere la propria famiglia senza lo stipendio, sospeso perché non vaccinato in quanto operatore sanitario, ha deciso di recarsi al Pala Expo di Marghera per effettuare la prima dose. Ma l'ha fatto inscenando una protesta che ricorda il finale del film musical Hair. Ho scelto il tema finale del film Hair, dove praticamente c'è il soldato che si scambia con Lippi, Lippi sta ai capelli per fare il cambio delle persone, poi alla fine Lippi va a morire. Ha deciso di indossare le manette e rasarsi a zero i capelli. Sono la cosa più importante, sono da anni, ormai 30 anni che ce li ho, e praticamente ho deciso in questa occasione, non potevo rinunciare i soldi per la mia famiglia, ho rinunciato ai capelli, insieme di protesta. Però viene a vaccinarsi? Sì, adesso mi vado a vaccinare, punto e basta. Però ritengo che sia una cosa scorretta. C'è il reto di cittadinanza, c'è la pensione minima, le pensioni di invalidità, c'è tutto. Il fatto che a qualcuno, a qualche categoria, sia stato tolto completamente lo stipendio, senza neanche essere licenziati, quindi senza la possibilità di avere la disoccupazione o qualcosa, lo trovo probabilmente scorretto. Anche la figlia di Ciannovenne ha deciso di accompagnare il papà in questa forma di protesta. Sono venuta qua per mio papà, lui è contrario, io sono vaccinata, non la penso totalmente come lui, credo nel vaccino, però credo che non sia giusto, che tolgano il lavoro alle persone. Dopo essersi rasato e ammanettato, Simone è andato a vaccinarsi. L'Ulstre ha comunicato che tutto si è svolto regolarmente, ringraziando per la paziente e puntuale gestione del caso gli operatori in servizio al Palexpo.